Bene, siamo tutti, a mio avvento è anche l'augurio che voi insegnanti vogliamo fare a voi e cioè di divertirvi, avete capito bene, cioè proprio nel vero senso della parola, il tipologico, divertirsi significa volgere altrove, andare a distrarsi, ecco che lo studio sia una distrazione da tutto il resto, da non portarvi in un altrove che sarà importante per la vostra crescita culturale e personale, questo è l'augurio che vi facciamo ed è il nostro obiettivo e ce la metteremo tutta. Con molti di voi ci siamo già conosciuti all'orientamento, infatti non più avviso lo riconosco, quindi un buon inizio che sia, come diceva il nostro professore Giuseppe Lupo, che è un docente delle religioni, quindi sarà anche per alcuni di voi il vostro docente, insieme a tutto lo staff, diciamo, del fatto Cigliari Lei, un benvenuto non solo gioioso, ma anche questo sentimento di entusiasmo, di scoperta, di attesa, vi possa accompagnare per tutto il percorso scolastico. Quindi questa emozione, che è importante, la conserveremo come una spinta a sempre far di più, meglio e soprattutto a superare quelle eventuali difficoltà che sono parte del cammino scolastico, ma anche della vita. Quindi un benvenuto, un incoraggiamento, bravi ragazzi, siamo assolutamente felici che da oggi in poi siete a noi parte della grande famiglia del fatto Cigliari Lei. Buon anno scoraggi per tutti! 3, 2, 1, via! Primo D. AFM, seguite Fabio!